Questa cena è la cosa migliore che mi sia capitata da quando... Da quando è nato Teo? Da quando abbiamo divorziato. La torta di fragole alla Sandri C. Porca puttana che buona! Mamma! È la torta preferita di mia moglie. Questa signora dice di conoscerti. Sì, andiamo alla stessa palestra. Finalmente il computer ci indicherà la professione più adatta alle sue capacità. Che dice? Falconiera. Trovami un sacchetto di carta. È orribile. Lo so, possiamo riprovare. Ma no, questo sacchetto è orribile. È unto e pieno di patatine fritte. Cos'è questa ordinazione? E dov'è Carol? Potresti accompagnarmi al country club. Ho bisogno di una vita tutta mia. Questa è la verità. Carol, Maritè, dove siete? Sto soffocando. Puoi organizzare un weekend fuori. Mi copriresti tu. Conta pure su di me. Non sei solo una madre. Hai una vita tua. Trovati qualcuno. Oh, porco. Quelli buoni sono tutti sposati. Mio figlio se n'è andato via di casa e alla fine che cosa mi rimane? Niente. Sei nella mia stessa condizione. Stai per implodere. Non facciamo più niente insieme. Non parliamo più. Ora non voglio discutere di questo. Credi veramente che io sia un idiota? Oh, no, 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 no. E allora che cosa vuoi? Mio marito vuole sempre fare il macio. Fare attenzione alla guida non mi sembra una richiesta molto da macio. Non potevi dirmela in faccia che non ti piacevo? Sei qui per questo. Aria fresca e indipendenza.